Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. L'apertura del notiziario è dedicata alla festa patronale di Gela che si è svolta ieri. Una folla di fedeli ha partecipato ai riti religiosi, c'eravamo anche noi, vediamo. Gela ha abbracciato la sua patrona. Una folla immensa già a partire dalle 18 e ieri ha atteso in piazza Umberto I l'uscita dell'amato simulacro della Madonna dell'Alemanna. Un quadro tanto caro e gelesi da richiamare nella città natale in questa data importante molti isolani emigrati per motivi di lavoro. È sempre emozionante vivere il momento in cui si spalanca il portone principale della chiesa madre e si intravede già il simulacro che avanza tra due ali di folla. Molte mamme affidano allo sguardo buono della Madonna e propri piccoli, ma ci sono anche i nonni con gli occhi lucidi di commozione. Ogni gelese arriva con il suo carico di dolore e di speranza. Ognuno chiede una grazia, personale, familiare o per le sorti dell'intera comunità cittadina. Ci sono tutti, le autorità religiose, civili e militari, la banda, i volontari della protezione civile e la stampa. Tutti desiderano abbracciare la patrona e stringersi in un momento di devozione e di raccoglimento per vivere una delle tradizioni più antiche di cui si abbia memoria. Il rituale è intenso e scandito dal tempo che in questi momenti sembra fermarsi, cristallizzato in attimi che restano impressi nella memoria storica della città di Gela. L'8 settembre è la festa di tutti i gelesi, anche di chi è vicino soltanto col pensiero, distante chissà quanti chilometri forse, ma unita al grande battito di un cuore che palpita di gioia e devozione per la sua patrona, da ogni angolo del mondo. Tantissimi fedeli residenti in altre città d'Italia e del mondo che hanno voluto essere presenti, li abbiamo sentiti. Abbiamo ringraziato la madonna per aver donato così. Una grande gioia. Una grande gioia, sì. Abbiamo ringraziato la madonna. Che emozioni state provando? Non posso parlare. Come si chiama il bambino? Come ti chiami? Michael. Anche lei, signora, ha voluto dedicare questo momento della vita di sua figlia alla madonna. Che valore ha questo momento? Tanto, tanto. Come si chiama? Perla. Io non sono di Gela. È la prima volta che vede questa festa? Sì, c'è la seconda volta. Da dove arriva? Da Cremona. È più bello di tutti, va, perché è la madonna, la patrona di Gela. Che cosa la spinge a essere qui? E spinge perché? Perché uno ha la devozione alla madonna e deve venire perché è una volta all'anno, non è tutti i giorni. Chiederà qualche grazia in particolare? E ci ne è tanti grazi, la pace del mondo, delle famiglie, tutti i giovani, tante cose ci sono. Segue ogni anno la processione? Sì, infatti, sì, la seguo sempre. Che cosa chiederà quest'anno alla madonna in preghiera? Che tutto vada bene per il lavoro e per tutte le cose. Da dove arriva? Da Milano. È la prima volta che vede questa festa? Un po' di anni fa che l'ho vista questa festa. Comunque è una cosa che attirà, sempre è una cosa naturale. È un momento di grande devozione. Esatto. Sono cose nel pensiero che rimancano. Salve, da dove arriva? Io da Fabriano, provincia di Ancona. E che cosa la spinge oggi a essere qui a Gela? Mia moglie è gelese. Cosa ne pensa di questa festa? Bellissima, è una tradizione che ancora resiste, mentre da noi non esiste più. Che cosa chiederà oggi nelle sue preghiere? Eh, c'è un fratello che non sta tanto bene che l'aiutasse. Spero che questo qui, la madonna, la protetta. È vedere la tradizione. Gela è molto legata a questa tradizione religiosa. Lei la segue ogni anno? Per sì, vediamo sempre. Oggi la città di Gela che cosa chiede alla madonna? Eh, chiede che le porti grazie e tutto quello che deve portare. Io è quella prima volta che vengo. È la prima volta? Viene da fuori? Sì, dalla Germania. Io non sono di Gela. Di dov'è signora lei? Di San Michele di Canzaria. E che cosa ne pensa di questa festa? È una festa che mi piace. La devozione è più che altro. È la nostra padrona per cui... Che cosa chiederà oggi Gela alla madonna? Che ci sia un po' di fortuna per tutti. È la madonna che è la nostra padrona della città. È sempre bello vedere questo festeggiamento e quindi siamo tutti qui. Almeno io sono qui per questo. Molti giovani e molte famiglie dal nord o addirittura dall'estero tornano in città per seguire la festa. È anche il tuo caso? Sì, è anche il mio caso. Io ormai lavoro fuori e vengo proprio per la famiglia e quest'occasione è sempre ben lieta. E preghiamo alla madonna sempre per avere protezione per la famiglia. Dall'Australia. Ma lei è di origini gelesi? Sì, sì, sì. È tornato proprio per la festa della padrona? No, sono tornato per vedere la madonna che non avevo 50 anni, che non la vedevo. Mi fa piacere vederla così. Un'emozione che soltanto lei lo sa. Non è una cosa che posso spiegarle all'altro. È una cosa di me stesso. Come mai 50 anni fa ha lasciato la Sicilia per andare in Australia? Ero giovane e mi piaceva fare un'invention. E oggi non mi sento cosa ho fatto. Stop! L'Australia è un paese meraviglioso. È un paese che ti dà tutto. La felicità, la gente sono bravi. Loro è una cosa meravigliosa. Siamo devoti, quindi abbiamo bisogno di lei. Chiediamo sempre la pace, di essere sempre buoni. E adesso cambiamo argomento sulla vicenda dell'aggressione subita da un medico qualche giorno dietro all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Interviene l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Caltanissetta. Con una nota inviata alla stampa, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Caltanissetta esprime solidarietà alla ginecologa in servizio all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, aggredita nei giorni scorsi dai familiari di una puerpera a seguito della morte del bambino. A nome personale del Consiglio Direttivo condanniamo questo grave episodio, leggiamo nel documento, manifestando profonda preoccupazione per le inaccettabili violenze che periodicamente subisce il personale delle strutture ospedaliere nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare nel presidio di Gela in cui recentemente altri colleghi sono stati vittime di aggressioni, scrive il Presidente dell'Ordine dei Medici Giovanni Di Polito. L'inchiesta dell'autorità giudiziaria nei confronti della quale riponiamo massima fiducia servirà a fare chiarezza sulla tragica morte del neonato. Più volte abbiamo segnalato i rischi per l'incolumità dei medici e degli altri operatori sanitari, ai quali va garantita la sicurezza necessaria per consentire un efficiente svolgimento del loro lavoro, volto esclusivamente alla cura e all'ascolto dei pazienti, conclude il Presidente dell'Ordine dei Medici. Le segreterie confederali CGL Cislewil della provincia di Caltanissette esprimono preoccupazione e perplessità in merito alla interpretazione di una parte non secondaria del protocollo d'intesa, che vede come attori principali due istituzioni pubbliche, Comune di Gela e Regione Siciliana. Lo scrivono in una nota inviata alla stampa i segretari generali Ignazio Giudice, Emanuele Galli e Maurizio Castania. In questi mesi, esattamente 22 dalla firma del protocollo, abbiamo continuato a denunciare ritardi, una volta sul fronte autorizzativo, una volta dell'Eni sull'avvio dei cantieri, per scelta dettata dalla volontà che anche oggi ribadiamo di evitare polemiche. Non siamo mai intervenuti in merito al destino dei 32 milioni di euro destinati alla città di Gela, pur avendo avuto un ruolo attivo nel pretendere da Eni proprio quei 32 milioni di euro. Leggiamo ancora nel documento, bene anche coloro che per mesi si sono distinti, per dirne di tutti i colori sul protocollo, al destino dei 32 milioni sono interessati per fare mille più cose. Ad oggi il saldo disponibile di 31 milioni 850 mila euro è possibile? Sì, purtroppo sì, potremmo fermarci qua per capire la progettualità politica, dove è arrivata, ma scegliamo di andare oltre, dato che sempre nel protocollo il rifacimento del portorifugio per noi era e rimane una priorità per Gela e i comuni limitrofi, per i portuali, i pescatori, per chi come noi crede nello sviluppo complementare all'industria. Il Comitato del Porto per il Porto ci ha chiesto un incontro, abbiamo ascoltato le ragioni delle loro proposte e ribadiamo che il Porto è un'opera improcastinabile. CGL, Cisle e Will ribadiscono la necessità e l'urgenza di andare, tra l'altro, alla sigla di un rinnovato ed efficace protocollo di legalità in grado di proteggere e preservare il destino dei 32 milioni di euro da vecchi e nuovi appetiti che vedrebbero Gela sprofondare in una crisi senza precedenti e priva di speranza. Oggi per noi contano i fatti, concludono i sindacalisti di CGL, Cisle e Will. Il coordinamento del tavolo tematico Aree Verdi, Spazi Pubblici e Mobilità Urbana, attivo da alcuni mesi all'interno del progetto denominato Cantiere Gela, incontrerà domani alle 16 presso la Sala Dompino Puglisi in Via Ossidiana i cittadini che hanno manifestato la volontà di adottare le aree verdi di Via Morselli. Sono invitati a partecipare alla riunione tutti i residenti che fossero interessati ad aderire all'iniziativo che volessero conoscere nel dettaglio il progetto di adozione. Come ogni inizio di anno qui a Piazza Sant'Agostino, a causa della movida che c'è tutte le sere, noi puntualmente troviamo di tutto e di più. La cosa che mi fa arrabbiare è che lunedì arriveranno i bambini e che nessuno in tutta l'estate ha provveduto a ripulire questa zona proprio antistante l'ingresso della scuola. Ricordo perfettamente l'ultima volta che fu pulita e disinfettata e fu quando arrivò a Gela il ministro Alfano. Dopodiché qui è abbandonato. Io protesterò energicamente insieme a tutti i genitori. Se entro lunedì qui non sarà pulito andremo tutti a protestare. Allora io faccio un appello sia ai ragazzi che ogni sera si appartano dietro questo bellissimo muro del pianto che allora scelleratamente fu costruito e quindi creando degli angoli appartati dove si trova di tutto. L'appello è per questi ragazzi, perché sono ragazzi. La maggior parte dei gelesi non sono così, ma questi sì, purtroppo lo sono. E' un appello agli organi competenti perché controllino di più e perché puliscano e disinfettino. La sezione provinciale dell'Unione Italiana dei Cecchi e degli Ipovedenti Onlus di Caltanissetta organizza a Gela uno screening oculistico gratuito con la collaborazione di un oculista e con l'ausilio delle apparecchiature in dotazione ad una unità mobile oftalmica allo scopo di sensibilizzare la comunità sulla importanza del controllo periodico e sulla salute degli occhi. L'unità mobile messa a disposizione dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Cecchi e degli Ipovedenti Onlus sarà presente in piazza Umberto I a Gela il 12, 13 e 14 settembre prossimi. Le visite saranno effettuate gratuitamente da un medico oculista a chiunque si presenti dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. La storia di Gela per una sera farà spettacolo. È previsto per mercoledì 14 e giovedì 15 settembre. Uno spettacolo fotografico organizzato dall'Archeoclub di Gela preseduto da Francesco Russello. L'evento si svolgerà a partire dalle 21.30 sul sagrato laterale della Chiesa Madre. Alcune immagini proietteranno nella retrospettiva dell'ultimo secolo la storia e gli avvenimenti che hanno interessato la nostra città. Da Terra Nova a Gela una serie di cartoline e foto d'epoche inedite della ricca collezione di Nuccio Moulet presentate dallo stesso faranno rivivere l'atmosfera di un tempo dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi venerdì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. L'organico deve essere depositato all'interno del sacchetto compostabile, dalle 22 alle 5, anche nei giorni di domenica, martedì e giovedì. Un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, appuntamento con Barry Harris, uno dei migliori esponenti del jazz classico mondiale, stasera alle 21 negli spazi esterni al Teatro Eschilo di Gela. L'iniziativa rientra nel cartellone della quinta edizione del Gela Jazz Festival, promosso da Loredana Melodia e dal Comune. Continua nel quartiere residenziale di Macchitella, invece, la rassegna del Ladies Trump, promossa dal direttore artistico Francesco Castellana, con Anna Salsetta alla produzione esecutiva e con Francesco Trainito alla produzione tecnica. Mercoledì 14 settembre prossima, alle 22, si esibirà Anna Bonomolo, accompagnata da Diego Spitaleri. Sono circa 300.000 le persone in Italia affette dal Parkinson, una malattia neurodegenerativa d'evoluzione lenta ma progressiva, che coinvolge principalmente alcune funzioni, quali il controllo dei movimenti, e dell'equilibrio, spesso etichettata come patologia della terza età, anche se sono sempre di più i casi in cui colpisce sotto i 40 anni. Non si conoscono ancora le cause, anche se sembra che vi siano numerosi fattori che concorrano al suo sviluppo, tra cui quelli genetici. Numerosi studi scientifici testimoniano l'efficacia del trattamento riabilitativo nel rallentare il peggioramento dei sintomi motori del Parkinson. Ecco perché Casa Famiglia Rosetta, che segue da vicino questi pazienti, ha organizzato sabato scorso un corso di aggiornamento. Per rispondere in modo adeguato ed efficace alle domande, ai bisogni delle persone che afferiscono ai nostri centri di riabilitazione, teniamo sempre viva l'attenzione alla formazione. Alla formazione riferendoci a centri di eccellenza, a personalità del mondo scientifico italiano, con i quali poter interagire. Perché l'integrazione è importante. La nostra presenza qui a Caltanissetta, che sorprende sempre per chi viene da fuori, è in riferimento a questi centri di eccellenza, certamente può arricchire il nostro servizio. Responsabile e scientifico del corso è il neurologo Giuseppe Frazzitta, direttore della struttura complessa di visione e riabilitazione malattie di Parkinson dell'ospedale di Gravedona. Intervenuto assieme alla psicologa e psicoterapeuta Paola Ortelli è il fisioterapista Giacomo Bassotti. Al momento in cui incominciano i primi sintomi motori, in realtà la malattia può avere anche un decorso che è iniziato 20 anni prima. Spesso il primo sintomo della malattia di Parkinson è uno sintomo non motorio ed è la perdita dell'olfatto, per cui i pazienti incominciano a sentire più gli odori. Altro sintomo premotorio che spesso si accompagna nelle fasi iniziali di malattia è la stitichezza e altro sintomo è la depressione del tono dell'umore. Soltanto dopo 10-15 anni dall'inizio di questi sintomi si sviluppano i sintomi motori e spesso il primo sintomo motorio è un dolore alla spalla, il che spesso si crede che la malattia di Parkinson inizi col tremore. Il tremore invece è presente soltanto nel 50% dei casi di malattia di Parkinson e è un sintomo peraltro che testimonia un andamento genere benigno della malattia stessa. La terapia farmacologica che noi abbiamo al momento a disposizione è in grado sì di ridurre alcuni sintomi, ma non è assolutamente efficace su quelli che sono i disturbi più importanti, quindi disturbi del cammino, disturbi dell'equilibrio e disturbi della postura che fanno sì che il paziente Parkinsoniano abbia la peggiore qualità di vita tra i soggetti affetti a malattie neurologiche. Giornata della solidarietà, domenica 11 settembre prossimo alle 10.30 in piazza Umberto I a Gela, l'iniziativa è giunta alla sua undicesima edizione ed è promossa dal Veteran Motor Club in collaborazione con la sottosezione dell'Unitalsi. 70 anni in due, questo è il titolo dell'evento in cui verranno celebrate insieme due ricorrenze, la ricostruzione dell'Ordine dei Medici e la nascita della Repubblica, la location scelta e il teatro Regina Margherita. Il prossimo mercoledì 14 settembre alle ore 18 interverranno, oltre al presidente provinciale dell'Ordine dei Medici, Giovanni Di Polito, anche il prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta e il presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo, Salvatore Amato. Sarà anche un'occasione per presentare il libro A Brucia Metterra, un volume che parla della Sicilia attraverso le fotografie del chirurgo Giovanni Di Lorenzo e le didascalie curate dall'autore teatrale Michele Albano. Mercoledì 14 settembre noi celebreremo i 70 anni della nascita della nostra Repubblica e i 70 anni della ricostituzione dell'Ordine dei Medici che in effetti nasce nel 1910 ma che viene sospeso durante il ventennio fascista per cui si ricostituisce nel 1946. Ecco che quindi abbiamo questa manifestazione dal titolo 70 anni in due perché lo celebriamo noi come Ordine Medici e noi come cittadini della Repubblica. è aperta alla cittadinanza proprio per spiegare quello che è il ruolo dell'Ordine dei Medici che poi alla fine è il ruolo di salvaguardia della salute di tutti i cittadini perché i colleghi, tutti noi che svolgiamo l'attività di medico passiamo al controllo dell'Ordine stesso. Master class di danza classica moderna e contemporanea al teatro classico al teatro Eschilo con Alessandra Celentano, insegnante di danza classica Cristiano Lopresti, danzatore della scuola di Amici. Appuntamento oggi e domani, per informazioni bisognerà regarsi al botteghino del teatro dalle 18.30 alle 20.30 oppure contattare i numeri di telefono 345-5880-580 oppure 331-5623-129. Siamo allo sport, c'è il calcio, il nuovo preparatore atletico della formazione bianca-azzurra sarà Rosario Marangio, il nuovo prof che vanta un'esperienza ventennale nell'ambiente del calcio professionistico si è messo subito al lavoro insieme al tecnico infantino per affrontare nel migliore dei modi questa nuova avventura in Serie D. A lui un sincero benvenuto a Gela e auguri di buon lavoro. E' tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito fin qui e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie per la visione!